La Voce 24 News Italia. Sfiora i 3 miliardi nel 2023 il giro d'affari del gelato artigianale, con un incremento dell'11% tra gelaterie, pasticcerie e bar con gelato. La relazione economica è diffusa in vista della dodicesima giornata europea del gelato artigianale, in programma il 24 marzo, che sarà presentata alla 45esima edizione di SIGEP The Dolce World Expo, Salone Internazionale di Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè di Italian Exhibition Group, in calendario, dal 20 al 24 gennaio, al quartiere fieristico di Rimini. Sul territorio nazionale sono presenti 39.000 punti vendita, di cui oltre 9.300 gelaterie, 12.000 pasticcerie e circa 18.000 bar che offrono gelato artigianale. Lo scenario economico in Europa registra un fatturato che per la prima volta supera i 10 miliardi, precisamente 10,9 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 9,83 miliardi del 2022 e gli 8,7 miliardi del 2021. Il numero di gelaterie è pari a 65.000, e impiegano circa 300.000 addetti. Alla presentazione del gelato Day al SIGEP sarà protagonista la Gopher de Liege, il gusto dell'anno 2024, scelto dal Belgio. Campania News. Cilento, Salerno, sulla Cilentana, la superstrada chiusa dal dicembre scorso, sono iniziati i lavori per cantierizzare l'area in cui dovranno essere eseguiti i lavori di ripristino del viadotto Acquarulo nel comune di Ceraso. L'obiettivo di ANAS, così come richiesto dal territorio, è di ripristinare la circolazione stradale prima della prossima Pasqua, e quindi entro marzo. Un intervento complesso che necessita, per la maggior parte delle attività, di condizioni meteorologiche favorevoli e costanti verifiche tecniche in corso d'opera. Gli automobilisti e i residenti di quelle aree confidano in una rapida ripresa della circolazione. L'interdizione al traffico del tratto vallo della Lucania Massicelle, è difficile da sopportare a lungo da, residenti, studenti e automobilisti che usufruiscono della l'importante strada di collegamento da e per il Cilento. Salerno. Il presidente Alfieri ha nominato il vice e assegnato le deleghe ai consiglieri della provincia, proclamati eletti a seguito delle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale di mercoledì 20 dicembre 2023. La squadra di lavoro è fondamentale comunica il presidente Franco Alfieri, per costruire un reale sviluppo dei territori. Da quando sono presidente di questo ente, ho considerato prioritario essere presenti e attenti alle esigenze di tutta la nostra bellissima provincia da nord a sud. Abbiamo costituito un ottimo team operativo, e insieme daremo risposte concrete, puntuali ed esaustive alle nostre comunità. Con alcuni di questi consiglieri, ho già avuto modo di lavorare in grande sinergia. Altri sono neoeletti, e rappresentano una preziosa energia nuova per il nostro ente che si affaccia verso un periodo molto delicato e in evoluzione. Sono contento quindi di annunciare le deleghe assegnate ai consiglieri provinciali che mi affiancheranno in questo percorso di governo, e la designazione del capogruppo del Partito Democratico. Voglio augurare fin da ora buon lavoro a tutti noi. Conclude Alfieri, le deleghe, Giovanni Guzzo, vicepresidente, politiche giovanili e corpi idrici superficiali, Francesco Morra, capogruppo PD, cultura e valorizzazione dei beni museali, Martino Donofrio, edilizia scolastica e pubblica istruzione, Antonio Fiore, sport, innovazione tecnologica e digitalizzazione, Anna Rita Ferrara, governo del territorio, Luca Cerretani, agricoltura, partecipate e personale, Giovanni De Simone, ambiente e mare, Vincenzo Speranza, viabilità provinciale, Pasquale Sorrentino, Turismo, Rosario Danisi, trasporti e mobilità sostenibile, Filomena Rosamilia, politiche sociali e pari opportunità, Gerardo Palladino, lavori pubblici, coordinamento piano triennale o O.P.P. e PNRR. Campania, la giunta della regione Campania, al termine di una riunione tecnica e del confronto avuto con il presidente della conferenza episcopale Campana Monsignor di Donna, il forum delle associazioni familiari della Campania, la Caritas, la diocesi di Napoli e le aggregazioni laicali, ha approvato il primo blocco di iniziative a sostegno della famiglia e della natalità. Su www.lavocedelmeridione.com la nota stampa dei consiglieri regionali del Partito Democratico, Bruna Fiola e Franco Piccarone, rispettivamente presidente della commissione politiche sociali e bilancio della regione Campania. Campania, la giunta della regione Campania direzione generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale ha reso nota la classificazione delle acque di balneazione propedeutica alla stagione 2024. La classificazione è stata elaborata dall'ARPA mediante elaborazione statistica degli esiti analitici delle ultime quattro stagioni balneari. Aumentano i tratti di mare di qualità eccellente dall'88% della scorsa annualità al 90%. In Campania si conferma il 97% di costa balneabile a fronte del restante 3% di costa non balneabile e circa 15 km, perché dichiarata di qualità scarsa nella succitata delibera regionale. Eccellente il mare di Agropoli, Ascea, Camerota, Capaccio, Castellabate, Centola Cetara, Eboli, Ispani, Monte Corice, Pisciotta, Santa Marina, Sapri, Salerno e Vibonati. Basilicata News. Basilicata. Via dalla Basilicata. Necessità o scelta. I risultati di un'indagine in un convegno a potenza. L'indagine è stata promossa dalla Libera Università delle Donne e dal Dipartimento degli Studi Politici e Sociali dell'Università di Salerno venerdì 19 gennaio alle ore 16 e 30, nel polo bibliotecario di Potenza, verranno presentati i primi risultati dell'indagine promossa dalla Libera Università delle Donne e dal Dipartimento degli Studi Politici e Sociali dell'Università di Salerno su quanti hanno lasciato per motivi migratori la Basilicata negli ultimi anni. Saranno vari gli interventi, mentre a commentare i risultati saranno Margherita Perretti Presidente Commissione Regionale Pari Opportunità e Margherita Di Lucca cofondatrice Generazione Lucana. Coordina Sara Lorusso, giornalista Rai. La voce del Meridione, una voce libera, informazione libera, che dà voce al territorio e alla gente. Seguici e iscriviti al nostro canale YouTube, resta sempre informato.